Pesaro raccoglie la sfida delle tecnologie emergenti in vista dell'anno capitale 2024, ma non solo. Oggi in municipio i tavoli di lavoro, cultura, turismo e engagement sono diventati proficuo terreno di costruzione della cosiddetta Casa delle Tecnologie Emergenti. Un progetto finanziato da 11 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo Economico, sul quale il Comune ha vinto un bando dedicato. Una mattinata in cui la macchina operativa comunale ha riunito i suoi 17 partner, le istituzioni culturali, gli enti di ricerca e le imprese in uno step votato a creare in città un innovativo laboratorio tecnologico. Siamo arrivati al secondo step dove abbiamo voluto coinvolgere le imprese del territorio, le associazioni di categoria, abbiamo voluto in qualche modo renderle partecipi. Inizieranno sicuramente una serie di incontri anche online, delle piattaforme che verranno create in base all'argomento che interessa l'azienda. Quindi iniziamo a concretizzare e a capire chi fa cosa per la nostra città. Sono molto contenta e soddisfatta, insomma anche vedo molta partecipazione qua in Consiglio Comunale. Andiamo avanti e speriamo di portare solo beneficio per la città di Pesaro. Una casa delle tecnologie emergenti che diventa un trampolino di innovazione nello sviluppo della gestione di Pesaro, capitale della cultura 2024. L'obiettivo della capitale della cultura era proprio al centro anche del dossier e della partecipazione al bando delle tecnologie, anzi si è proprio raccontato come attraverso le tecnologie e la tecnica poter raccontare meglio gli obiettivi di Pesaro, capitale della cultura che come sappiamo ha in ognuno dei suoi 45 filoni di intervento in maniera inscindibile, sostenibilità, patrimonio e tecnologia per l'appunto. Quindi non solo pienamente all'interno delle linee della casa tecnologie ma pienamente all'interno anche delle prime linee d'azione che si stanno studiando. Spazi tecnologici e tecnici dedicati all'apprendimento, dedicati alla divulgazione, spazi dedicati al racconto quotidiano delle attività della capitale 24 ma anche di quello che accadrà in giro per il mondo collegati via web e raccontabili attraverso strumenti creati grazie alla casa tecnologie. Saranno tantissime le occasioni di interazione tra il progetto casa tecnologie e la capitale 24 ma soprattutto lo saranno non in termini di eventi spot sporadici ma di infrastrutturazioni tecnologiche che rimarranno alla città e al territorio proprio per continuare a raccontare diffusione di dati, contenuti e i contenuti principali della capitale 24.